Negli sport che più amano la palla a volo, spettacolare da vedere, in una manifestazione come le Olimpiadi, che è per la palla a volo un grande e importante evento, non così come per il calcio per esempio, ma appunto ci sta regalando delle belle soddisfazioni. La nazionale italiana di palla a volo di Colle è in semifinale, ha battuto i campioni in carica degli Stati Uniti, addirittura con un parziale, con un 3-0, un 3-7-0 che hanno proprio distrutti. Allenata quest'anno da Mauro Berruto, la nazionale di volley, e ce la vedremo in semifinale con i fortissimi brasiliani. Ricordo che nel 1996 la squadra di pallavu italiana conquistò l'argento ad Atlanta, le repie negli Stati Uniti di Atlanta, allenati da Velasco, il brasiliano Velasco, perdendo proprio in finale con l'Olanda. Speriamo insomma anche la palla a volo femminile ci ha regalato grandi soddisfazioni le Olimpiadi, ma come si dice più a Roma, fosse che fosse la porta a bora, diceva uno che quest'anno riuscissimo ad arrivare non solo in finale, ma anche a prendere il titolo e la medaglia d'oro di palla a volo. Vai, forza ragazzi e forza Italia! Ciao!